Simona, per sempre domenica, il presente. Ma perché sono attraversata da questi pensieri proprio oggi che domenica? Tra l'altro è ottobre e c'è un soletto che illumina timidamente il giardino. È un caldo che non è naturale. Saranno i cambiamenti climatici? Però penso che se vado giù, esco in giardino e vedo gli ibischi con i loro fiori campanulati, mi sembrano un regalo, tardivo, ma pur sempre un regalo. Anche il mio giardino a volte l'ho sentito come un peso, perché un giardino ha bisogno di cure e attenzioni e allora metto le mani nella terra senza combinare niente. Cerco di imitare mia madre che è così brava con le piante, ma io non ho il pollice verde, ho solo quello per pagare qualcuno che le curi. Quando lavoro poco e mi viene l'ansia perché il conto va in rosso, il primo a rimetterci è proprio sto pezzo di terra che circonda la mia casa. Chiamo Gianfilippo, il giardiniere, e gli dico per un mese non venire e lui mi risponde le piante mica si possono abbandonare. Niente si può abbandonare, lasciare indietro, questo è il problema, questo è il carico emotivo che ci portiamo tutti. Mio suocero Tognazzi diceva io sono un poveraccio che mantiene una famiglia di ricchi. Quanto mi ha fatto ridere, ha una ruga vicino alla mia bocca ho dato il suo nome, Ugo. Sono ancora a letto e Ricchi si è già alzato, ho sentito lo scroscio della doccia, ho continuato a fingere di dormire, nella speranza di non dover affrontare la giornata che poi affronto, invece mi fa bene. Paravrasando la grande Alda Merini mi sveglio deforme e torno in forma attraverso gli altri, ma ancora non ce la faccio a posare i piedi sul pavimento, a uscire dal letto. Ecco, sta arrivando la famigliona, le mie sorelle, mia madre, mio figlio con Cristina e i loro due bambini che come farfalle svolazzano intorno. È un po' che non li vedo i piccini, dieci giorni, forse quindici, magari sono cresciuti di mezzo centimetro. Mia tre anni, forse dice qualche parola comprensibile in più, è una chiacchierona, ma parla una lingua tutta sua, una prelingua musicale, è quando le dico nonna non ha capito. Lei mi abbraccia e cerca di spiegarmi, ma continuo a non capire. Mi piace ascoltarla perché non mi pesa quello che dice, non devo concentrarmi su un concetto, mi sento libera, è come il frammento di un discorso amoroso in un idioma straniero. Ma quando invece arrivano Alice e Tommaso, i figli del primo matrimonio di Francesco, lì sì che devo concentrarmi, sono grandi, attenti, colti, mi portano nel loro mondo e io devo adeguarmi o meglio cercare di non far trapelare certe carenze senili. Il nome di un cantante o di un libro appena uscito, di un film di nicchia che hanno visto e io mi sento indietro come se non avessi fatto i compiti. Gli esami non finiscono mai, non mi resta che abbeverarmi alla loro fonte di vita nuova. Dalla cucina arriva un effluvio che sale supe le scale, è il tripitio del camino. Voci, Ricky, Manuel e Dorota che ci aiutano, profumo di brodo di pollo, anzi di gallina. Allora penso, gallina vecchia fa buon brodo. Che cattiveria, le donne della mia età ogni tanto lo dicono, magari scherzando, e le chiamano tardone, anche se arrivano sempre in anticipo. Il lessico dei maschi insopportabile, misogino, che però resiste perenne. Che amore che è, Ricky, cucina per tutti, scrive i menù e li mette davanti a ogni commensale, come fosse sempre un pranzo di gala. Decidi i posti a tavola per la mia famiglia, perché della sua non c'è nessuno. Sua figlia Sara vive a Londra, i fratelli di Ricky sono tutti impegnati, mamma Pat non c'è più, suo marito Franco si è rinchiuso come un monaco nella casa dove ha vissuto con lei a Nizza sul mare, dove abbiamo passato dei giorni indimenticabili con loro e Ricky. Ma mentre vivi, niente ti sembra indimenticabile. Francesco una volta mi ha detto che non è mai stato a casa di Pat e Franco, è vero, non l'ho mai portato, chissà perché, anzi lo so. Pensavo che si sarebbe intristito, non erano i suoi noni, forse ho sbagliato, non mi ha mai vista in quelle stanze, né ha mai goduto del panorama che al tramonto diventava come un quadro, fermo, rosa. Il mare di velluto e profumi meravigliosi dei ricercatissimi aperitivi di Pat, mia suocera, ormai quel mondo non c'è più e lui non ha più modo di farne parte. È un po' che non facciamo il pranzo della domenica tutti insieme e io, le mie sorelle, i loro figli, quel che resta dei mariti. Quando c'era papà, il rito era obbligatorio, ma nessuno lo sentiva come tale. Era un modo per aggiornarci su quello che era successo nella settimana e magari anche per discuterne e a volte litigare. Però poi, alla fine, quando papà chiudeva le danze, tutto era tornato a posto. Una specie di terapia familiare, che aveva anche una sua sacralità, pur essendo noi tutti ostinatamente laici, a parte fiamma, credo, è stato così importante per la nostra famiglia vedersi tanto spesso. Mi manca quella sensazione di pienezza, la gara a chi fosse di noi sorelle la più elegante, la più brillante. Facevamo di tutto per piacere sia papà sia mamma, forse più che ai nostri mariti ed ipiche per sempre. Dovevano essere orgogliosi di noi e quindi ci costringevano a migliorarci e alla fine a piacerci. Ci saranno anche quasi tutti i figli delle sorelle oggi, o meglio, quelli che vivono in Italia. Neanche Miriam, la figlia di Rostella, che mi chiama madrina ci sarà, è andata a Marsiglia con Quentin e il suo bambino, ma non per una vacanza, forse si trasferiranno, chi lo sa. Mi manca Miriam, lei ha una sofferenza nella quale mi riconosco, ma è più sincera di me o forse è più sfacciata perché non la nasconde mai, te la butta addosso e poi dopo averti magari sgridata perché non si sente mai abbastanza amata, ti stringe a sé e dice tu non sai abbracciare, non sai mischiarti, rimani sempre intera, ti fondi con la testa ma mai con il corpo. Mi sa che è vero, io abbraccio poco o tutti, chissà perché, forse non mi abbandono abbastanza, ho paura di disturbare, non lo so, non mi piace nemmeno pensarlo però, io abbraccio le persone col pensiero, scrivo di loro, parlo di loro, si muovono nella mia testa e nella scrittura mi fondo con loro, ma forse non basta. Cesare Zafattini, geniale sceneggiatore, diceva la vita è una torta, o la mangio o la descrivi, ma chi scrive sottraendo agli altri la propria presenza è un annaffettivo? Chi la torta preferisce descriverla? È un narcisista patologico? Mi sa di sì, leggetemi, nutritevi di quel che sono capace di darvi senza averlo mai dato e senza che voi me l'abbiate chiesto, alla fine devo solo ringraziarvi perché siete voi chi mi date la farina per fare la torta. La voce di Ricky che mi chiama, è tardi, intanto sento arrivare un canto di donna, è fiamma, che come un re maggio è entrata in cucina carica di cibi propri, una quiche Lorraine ancora calda, un soufflé di finocchio per giuppi che è l'unica vegana della famiglia, un dolce alle carote e poi il suo pane pieno di sorprese nascoste, noce, olive, sesamo, anche lei si nasconde, forse solo a me. Non sono ancora riuscita a capire i suoi silenzi, appena a un minuto si mette a cucinare, è il suo modo di comunicare con le persone, le vuole nutrire, in questo è molto generosa. È una persona felice? Apparentemente sì, temo però che sia forriera di un dolore occultato che le brucia dentro, ma non lo sforma come fosse sempre in cottura. Credo di averla vista piangere in rare occasioni, stava cucinando, lei non mi guardava, non diceva niente, allora io mi sono avvicinata per scrutarla, ma si è girata, piangeva in silenzio mentre rimestava un risotto alla zucca, papà era morto da due mesi. Parliamo di lui? Gli ho detto, piangiamo insieme? Si è asciugata gli occhi con il panno della cucina e ha risposto, ti prego Simo, andiamo a mangiare che poi mi passa, se do voce al mio dolore sto ancora peggio. Perché non vuole condividerlo con me? Ma solo con me o con tutti, forse solo con il suo psicanalista, non voglio darti un peso in più, stiamo tutti male senza papà. Le vorrei dire che il dolore ci fa percepire l'esistenza più della gioia che invece ci distrae, ma taccio, tengo a bada questo e a volte insopportabile l'istinto di scavare nei cuori altrui, odioso forse, perché se un malessere è carsico non deve emergere per forza, i fiumi decidono loro quando inaridirsi e quando fluire. La verità è che cerco di consolarmi attraverso la certezza che il dolore per vada a tutti, nonostante ognuno di noi si sforzi di essere felice. Ma perché in solitudine? Perché non impariamo a essere tristi insieme e a risolvere l'angoscia tutti insieme? Con Giuppi è più semplice, quando non è oppressa dal lavoro. Lavora come una pazza, da quando aveva cinque anni, però ogni tanto mi chiama. Vuole sapere come sto, vuole parlare di Nike, di Alessandro e i suoi bellissimi figli che vivono in Olanda. Ormai sono grandi, hanno più di vent'anni e le mancano, più di quando erano piccoli. Hanno preso la loro strada e lei lo sa che è giusto così. Poi mi parla di Alice, la figlia di Francesco, mia nipote. L'ama tanto, le ha insegnato insieme anche alle altre sorelle a recitare, ad adattare i dialoghi per il doppiaggio. Mi commuove. Alice è per una Nike con una cascata di capelli neri, una figlia acquisita. Mia nipote appaga in lei l'aspirazione a una maternità perenne. La bacia, come se baciassi sui figli lontani. Non si abituerà mai alla distanza. Le madri hanno bisogno di tenere sempre per mani i loro figli, ma non è possibile, bisogna lasciarli andare. Me lo ripeto anche io. Giuppi, amando così tanto Alice, che io amo più della mia vita, amo un po' di più anche me. Io, lei, lo chiamerei un amore transitivo tra sorelle. Ultimamente la sento e la vedo meno. Anche lei a volte è carsica e forse un po' anche rostella. Sono tutte carsiche a parte me. Non so se è un vantaggio, ma non riesco a trovare un nascondiglio nell'anima. Vivo a cuore aperto. Sento che ricche fiamma dibattono sul riso giallo, che è la specialità di mio marito. È pur sempre nato a Milano. Soffritto sì, soffritto no, tostatura del riso e poi filamenti di zafferano come tante stelle filanti rosse. Il piccolo Leonardo sarà felice. Il terzo figlio di Francesco è un patito della Roma, come tutti i venditti. Quel piatto è giallorosso, come la bandiera della loro squadra. A tre anni Leonardo cantava già squarciagola sul terrazzo, in modo che lo sentisse tutta trastevere e forse la sua voce arrivasse anche ad Antonio, che vive in quella zona, grazie a Roma, l'inno che Antonio ha composto per la squadra del cuore. Ecco la voce di Rossella, cristallina, che saluta gioiosamente tutti e mostra un dolce fatto in casa e il tintinio delle bottiglie di vino e di champagne, di cui è sempre carica. C'è sua figlia Giulia, accanto a lei, incinta di tre mesi, con Marco, suo marito. Pare che nasca un'altra femmina in famiglia. Lui è così e orgoglioso. Si sente già un papà. Pensano già al nome. Giulia vorrebbe chiamarla Uma. Come le viene in mente non lo so. Certo, mio padre le diceva che sembrava Uma Thurman. Infatti assomiglia a quella meravigliosa attrice. La pelle è chiara, le gambe lunghissime. Ma ti prego Giulia, cambia idea. Comunque sua figlia sarà la mia decima nipotina, come zia. Ecco la voce di Anita, l'ultima figlia di fiamma. Occhi di un blu profondo, capelli a caschetto, sembra una Valentina di Crepax. Quando glielo dico mi guarda stupita. Ma chi è Valentina, zia? Studia l'amore. Sento abbagliare il cane di Serena e Alice. Sono arrivate anche loro. Oggi è festa grande. Vivono insieme da quattro anni. Si amano. Mi sembrano una coppia perfetta. Si rispettano, si stimano. Sono attenti al giudizio l'una dell'altra. Per me Serena è un'altra nipotina, la quinta da nonna. Ah ecco, Tommaso, secondo figlio di Francesco, si presenta sempre con un po' di broncio al venditti. Ma basta un niente e si apre in un grande sorriso. Imbraccia la chitarra e ci fa sentire un pezzo che ha scritto. Ritengo che sia una delle intelligenze più acute della famiglia. Mi piace il suo modo di pensare il mondo. Qualcuno dice che chi si sia innamorato di una bellissima ragazza, Jessica, Retina, come la sua nonna paterna, Ilaria, Occhini. È ancora tutto top secret. Ma ricordo che una domenica di qualche mese fa si è alzato dalla grande tavolata di famiglia e per circa mezz'ora, saltando le lasagne, il rospi di Ricky e il dolce di Giuppi, ha parlato al telefono, fitto fitto con qualcuno. Quando ce la presenti, Jessica, vorrei dirgli, ma i ragazzi sono come le barche, non alzano sempre le belle. Bisogna che ci sia il vento giusto. Aspetterò. Siamo tutti a tavola ora, a parte Leonardo. Lo vedo giocare a pallone attraverso la porta finestra che si affaccia sul giardino. Dà delle caracche quel ragazzino. Sono fiera della sua fisicità alto, lungo, muscoloso, fin da piccolissimo. Misure antropologiche perfette. Stavo scrivendo la storia di Menea, il velocista, quando è nato. È la prima volta che l'ho visto in fasce e mi sono detta, secondo me, diventa un centro metrista. Ha il physique du rôle e anche una tenacia che dimostra in tutti di sport che fa calcio, rugby, ha la grinta degli sportivi. Rossella è malinconica. Le manca Miriam, ma soprattutto Jacques, il figlio di Miriam e Quentin. Il venerdì di solito la mia gemella si prendeva il nipotino e insieme a lui guardava i cartoni fino alla domenica sera. È un mese che questo gioco salvifico per lei non si ripete. Ricordo di aver scritto nel mio primo romanzo, Diario di una donna che ha tradito, che dobbiamo insegnare ai nostri figli a staccarsi da noi, non rimprevorandoli quando ci ubbidiranno, andandosene per la loro strada, anche se impervia, pericolosa e lontana, molto lontana da noi, madri. Dio ci punisce quando esaudisce i nostri desideri. Vogliamo creare figli indipendenti e poi ne soffriamo. Mia madre è vicina a fiamma. I suoi occhi non sono più di quell'azzurro corusco che abbagliava le persone. Ora le sue eridi sono un po' appannate, come un bicchiere d'acqua con un po' di anice. Il golf che indossa gliel'ho regalato io, meglio me l'ha visto addosso e me l'ha quasi tolto. Quando mi chiede qualcosa sono così felice, felice di vederla poi con qualcosa di mio. constatare che la taglia è giusta abbastanza. Alla fine, quando compro un indumento per me, penso sempre che un giorno lo vedrò su di lei. Ha i capelli vaporosi. Fiamma ha fatto venire il parrucchiere a casa stamattina e poi l'ha truccata lei. Chi direbbe che tra poco avrà 92 anni? È una fortuna averla ancora. Tra quanto dovrò affrontare il dolore della sua assenza, che già si affaccia alla mia coscienza. Sta bevendo champagne col ghiaccio. Lei che è nata a gennaio con la neve di Milano vuole che tutto sia freddo. Se le porti un caffè caldo dice vabbè, aspetterò che si raffreddi. Oggi mi ha detto come sei bella e io ho pensato con dolore. Ma non ci vedi quasi in più mamma. Ho indosso un vestito rosso Ferrari perché lei i colori, quelli accesi, ancora li distingue. Il resto lo immagina, lo ricorda. Quando la vado a trovare mi stendo avvicino a lei. Vorrei che il tempo si fermasse, come adesso. Che siamo tutti intorno a questa tavola, con una tovaglia troppo colorata, che però fa allegria. Perché i bambini non rimangono bambini, i vecchi vecchi e i grandi grandi. Perché le cose non rimangono come sono? C'è qualcosa che alberga nei miei occhi, come un effetto speciale. Mi sembra di vedere papà seduto con noi. La testa reclinata, stava già male. Era sulla carrozzella. Un medico per scongiurare un ictus gliel'aveva procurato attraverso un'angioplastica carotidea. Andata male, come ho già raccontato. Durante l'operazione qualcosa è sfuggito. Una pietruzza ha detto illuminare. Poi quando hanno ricoverato papà in terapia intensiva, quella testa pelata con un camice bianco mi fa. Non sono uno spaccacore di pietre. Suo padre ha firmato il consenso. Il 3% delle persone che si sottopongono a questo intervento rischia un ictus. Insomma, Izzo faceva parte di quel 3%, si rassegni. Dopo quattro giorni papà è uscito dal coma indotto e ha visto me, le mie sorelle, i nostri figli, i nipoti, mia madre. Eravamo in una stanza in terapia subintensiva. Un luogo che suonava sinistro. Papà aveva un ghigno sul viso. La bocca se ne andava da un'altra parte, ma è riuscito a dirci. Oh ragazzi, ho fatto la prova generale della morte, ma sono ancora qui. Le spalle di Francesco così dritte e forti mi aiuteranno ad alzarmi, perché le gambe per ora non le sento. Abbiamo finto di portare, di provare sollievo. Papà era ancora vivo. Avrebbe patito per altri quattro anni prima di andarsene per colpa di quella pietruzza e di quel bisturi assassino. Adesso mi chiedo perché, in una domenica tiepida, mentre Ricchi mi sta versando il vino rosso, io debba sprofondare in questi pensieri. Mi annacque il merlot? È così che mi riporta alla realtà Ricchi. Lo sai, è il vizio di mamma. Ghiaccio ovunque. Vabbè, ma il riso com'è? Tutti aspettano il verdetto. Manca un pizzico di sale. Azzardo. Francesco solidarizza subito con Ricchi. Mamma non è mai contenta. Deve sempre dire la sua. Il riso è perfetto, Ricchi. La mia famiglia si unisce in un fantastico applauso a mio marito. Io comunque un poco di sale lo aggiungo. Lo aggiungo e tutti fanno buuuu. Sembra di stare a teatro. È il momento della sfida tra Fiamma e Ricchi. Mia sorella mette nel piatto di Giuppi il suo soufflé vegano di finocchi. Perché Giuppi non ha ceduto al brodo di gallina del riso. Ma Stefano e il suo compagno si è pappato anche la sua porzione. Meno male che c'è Stefano, ha detto Ricchi. Adesso a tavola ci sono i dolci che Giuppi prende a Trastevere in una pasticceria francese. Sono così belli da vedere. Ce n'è uno fucsia, uno verde smeraldo, uno pieno di cioccolata. Ah certo, non sono vegani. Pieni di burro e forse anche gli additivi. Chi lo sa? Ma così buoni. Il dulcis in fondo. Mia nipote mia è piena di panna. Mi andrebbe di baciarla, ma non posso. Anche se siamo super vaccinati, il covid ci blocca. Ma il visetto non glielo pulisco. Mi piace così. Più dolce di quanto sia, già non sia. Mamma deve andare a casa. È stanca. Non resiste più di tanto. Allora Francesco e Ricchi la aiutano ad alzarsi. Fiamma prepara la macchina. Non deve prendere freddo nel passaggio. Ecco che arriva lo sciale di Giuppi a coprirla. Mentre mia madre, sorretta dagli uomini di casa, raggiunge l'auto, la sento ripetere. Su, 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 su. Grazie, grazie, grazie. Cielo, cielo. Quando cammina fatica e quel mantra sembra essere il bastone che la sostiene. La macchina sta andando via. Mamma mi saluta con la mano mentre Fiamma strombazza con il clacson. Sento mamma che grida. Hai i fiori più belli dei miei, Simoncina. Non è vero, mamma. Non sono abbastanza colorati perché tu possa vederli. Ne avverti profumo, però. I fiori si fanno percepire anche da chi non può godere della loro caduca bellezza. Tra poco andranno via tutti. La bella Cristina, mia nuora, fuma in giardino. Le vado vicino. Le voglio un bene enorme. La ringrazio di questi due gioielli di carne che mi ha regalato. Le dico grazie di essere venuta, di avermi portato i bambini. Nello spazio di quella sigaretta condivisa parliamo degli uomini, della nostra vita, mio figlio e mio marito. Li amiamo. Li stiamo guardando insieme dalla veranda. Francesco abbraccia Ricchi e che gli dice amico mio ti voglio bene. Sono un padre e un figlio pur non essendolo. Anzi sono più che un padre e un figlio. Sono due persone che si ameranno per sempre. Lo so. Se me ne andassi prima di Ricchi sono certa che Francesco avrebbe il privilegio di condividere con lui la memoria di sua madre. Così come Sara, se lui, speriamo di no, se ne andasse prima di me, troverebbe le mie braccia aperte per superare insieme il dolore incolmabile della perdita. Vive con Marco, da poco, tra Londra e Bruxelles. Ci mancano. Leonardo ha sudato come un pazzo. Ha giocato per due ore a pallone e ora è nella mia vasca, quella grande, che non riempio mai perché se solo penso a quanti litri contiene mi sento male. Quindi ho una vasca enorme dove faccio solo docce veloce e sarebbe inutile che non ci fossero i miei nipoti che la riempiono d'acqua di schizze e di risate. Adesso ho spogliato Mia che sta vicino a suo fratello. È dentro l'acqua calda. Leonardo ha trovato la mia schiuma da barba che quando ogni tanto ho presa dalla pigrizia non ho voglia di fare la ceretta. Mi do una rasoiata come dico io. Lui se la mette in faccia come dovesse farsi la barba. Vuole diventare grande il prima possibile. No, ti prego, amore. No, la barba più tardi possibile perché quando bacio tuo fratello Tommaso che è davvero irsuto come tutti i venditti mi si infuocano le guance ma lo bacio lo stesso. Gli oli essenziali e le bombe di rabagno che scoppiettano colorando l'acqua profumano l'aria. Le compro solo per loro. Costano troppo. Penso a quando dovrò pulire la vasca ma intanto mi godo quei corpicini che quasi nuotano. Facciamo un gioco. C'è una tempesta e vi dovete salvare. Accendo l'idromassaggio. Ecco la burrasca. Mi chiedono di prendere il cagnetto bianco per fargli fare il bagno con loro. No, questo è il nostro gioco segreto. Quando ci sono i vostri genitori non si può fare. Ma intanto prendo Fanny, la Jack Russell, e la metto a sguazzare nella vasca con loro. Ecco che arriva Francesco con gli accappatoi. I bambini tentano di nascondere il cagnetto e lui fa. Ma come? Non gli hai fatto fare il bagno con... Ma come? Non gli hai fatto fare il bagno con il cane, bambini? I miei nipoti mi mascherano. Certo papà è qui, dicono, tirando fuori il cane come un coniglio dal cilindro. Ridacca e gli dice. Anche io facevo il bagnetto con il cane, solo che era un San Bernardo. Ti ricordi mamma? Per fortuna sei passata ai cani piccoli. Ridiamo. Ora i bambini sono asciutti. Sanno di Borotalco. Li abbraccio forte forte e Miriam sarebbe felice di vedermi ora. Si impara sempre qualcosa. Intanto un tramonto rosseggiante fa irruzione dalla finestra. Sono andati via tutti. Sul tavolo ci saranno quaranta bicchieri. In cucina non c'è più niente perché abbiamo fatto i take away. Mia madre ha portato via i risotto. Francesco i carciofi. E' rimasto solo i broduri gallina. Troppo scomodo da trasportare. Il cammino si è quasi spento. E io sto bene. Non ho più quel maccigno sul petto. Sparecchio, lavo i bicchieri, pulisco la cucina. Ci sono i fiori che mi hanno portato i nipoti. Li metto nell'acqua. Ora sono tra le braccia di Ricky. Nell'ettone. Sta scegliendo un film e lo guardiamo stretti stretti. Perché le domeniche finiscono. Do un bacio a Ricky forte. Grazie di che? Di aver accolto ancora una volta quella che lui chiama una minoranza etnica alla nostra famiglia. Sai che mi piace quando Fiamma, Giuppi e Rossella mi chiamano Sorello Ricky. Sembra un titolo, forse lo è. La chat di famiglia si riempie di messaggini. Tutti ci ringraziano per il pranzo. Partono i voti per i piatti migliori. Ricche e Fiamma pareggiano. Sono felice ma puntigliosa. Non dovrei dire quello che sto dicendo. Meglio pensarlo, sì, scriverlo. Vi prego sorelle, non discutiamo più. Non insultiamoci più. Non lasciamoci più. Non sprechiamo i giorni. Vediamoci tutte le domeniche. Come quando c'era papà. Che solo così diventano sante. Che lo si vogliano le sorelle, i figli, i nipoti, i mariti lasciati e tenuti e chi sopravvive dei genitori sono un laccio affettivo che ci protegge dalla malinconia, dal rischio della perdita del senso della vita, sempre in agguato dall'abisso esistenziale. Fino a quando? Per sempre.